I've been reading the stars Bella a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale Siamo su Metro, siamo ritornati con il nostro episodio sul Road to Cipolla Ragazzi, tanto per cambiare, perché ho fatto sempre dominio Quest'oggi andremo a fare un gioco delle armi Su Metro, su una mappa che praticamente non ho mai giocato Cioè io no che non ho mai giocato Cioè pochissime volte è che è una mappa veramente insidiosa Con tante posti da camperare E soprattutto sempre da dietro Vabbè siamo iniziati già a partita iniziata Con quello che sta già a 120 No? E tu dove vai? E tu? E tu? Ok, dai che ci possiamo riprendere Dai che gli possiamo fare il culo E il ciulo Poveretto, quella è la FK Porca puttana Allora, possiamo riprenderci Stavo dicendo Sempre se Ci permettono di riprenderci Eh ma poverino Sempre tutti Tutti quelle FK io li becco Dai Vabbè non ci credo Tutti quelle FK io li becco Ma che Che cazzo di partita era? Va bene Andiamo avanti Ricchia ragazzi La strage Va bene Ma perché Tutte FK sono? Ma stanno Si stanno boostando per caso Cazzo Tutte FK sono? Cioè No, uno qui sotto Dai E che palle E' un episodio barboso Comunque se trovo tutti quelle FK E va bene Così E' un altro FK E che palle Dai Va bene Così ragazzi Ma non capisco che sono tutti FK Cioè la maggior parte sono FK Non sto scherzando Non riesco a capire perché Va bene Va bene Va bene Andiamo avanti così Ad ammazzare la FK Non so neanche se mi sembra giusto Cazzo Il cieco Il cieco E' il cieco E' il cieco Mi ha ammazzato Chi c'è qua? Eh vabbè Perché FK? Bah Ancora il cieco Ma ce l'hai con me Zio? Non ci credo Non ci credo Da Dai 160 Stiamo recuperando Non ci credo Dai Ti avevo preso Come fa a quella stare a 99 kill? E' un bug 109 kill Non ci credo ragazzi 99 kill 109 kill Ma è un bug Non ci credo Guardate C'è 99 8 100 Va bene Non ci credo Se no dobbiamo andare Dobbiamo andare avanti così O quella che fa 100 kill e 8 morti 100 kill e 8 morti Questo bug è da segnalare Comunque Io li segnalerò Non perché Sono uno che rompe le palle Ma io Preferisco giocare Un gioco Ottimo E non gioco Tipo questi Si stanno boostando Avevo ragione allora Avevo veramente ragione Avevo veramente ragione C'è impossibile ragazzi Non ci credo Fanculo Si vabbè Quell'ora Vincerà sicuramente Perché Trova tutte FK E' normalissimo Che tu prendi e uccidi Il tuo FK Così è facilissimo Eh vabbè Lasciamo stare ragazzi Lasciamo stare Veramente ragazzi Questa partita Siamo arrivati Secondi Ma Abbiamo trovato Che cazzo di Ma che partite Sono ragazzi 102 kill A 8 Ma poi come si fa Non fare 100 kill E restare sempre Con la stessa arma Sarà stato un bug Impossibile ragazzi E' impossibile Veramente ragazzi Vabbè ragazzi Andiamo subito Alla prossima partita Eccoci ritornati ragazzi Siamo sempre Su gioco delle armi Tratto per cambiare Dal solito dominio Siamo su combine Ma ragazzi Dovete veramente Comunque Spiegarmi Come cazzo Si possano fare 100 kill Su Gioco delle armi In una partita Che basterebbero 20 kill di fila Vincerlo Va bene Bug loro Io comunque Ho Reportato Come Da giocatore Normale Perché veramente A me non piace Trovare hacker Trovare gente così Che proprio Non si Cioè Call of Duty E' stato credo Per divertirsi Più che altro Non per hacker O quant'altro Perché Chi usa hack O cheat Vuol dire che Non sa giocare Cioè non accetta Di saper giocare Ok Questa stava guardando Le nuvole Intanto Va bene Va bene Va bene Cazzo Però Non è impossibile Che ogni partita Trovi gli fk Dai Eh dai Questa fk Un'altra volta Porca miseria Potremmo mai Trovare una partita Mene fk Possibili Allora Qua ancora Sto girando Già circa Mezz'ora Ecco Finalmente Non ho trovato uno Sto girando Circa mezz'ora Ma non ho trovato Niente E vabbè Poverino Poverino Porca putta Dai Cazzo E' impossibile Ragazzi Veramente Giocare certe partite Non perché Non vuole Ma tutta fk Trovo Tutte quelle fk Io le trovo Aspettate che li sento Ok Da qua Beh Che dobbiamo fare Dobbiamo giocare così A chi la dà fk Allora Da qua è andato questo Mori pezzo di merda Mamma mia Forza Dai Però se mi capita davanti Quella fk Che palle Vabbè Quella fk Eh va bene Ragazzi Sono in silenzio Solo perché Voglio vedere Che cazzo Sta succedendo Perché Poss La mia mira Proprio Ok Abbiamo lo sceiva Abbiamo lo sceiva Andiamo se Diciamo a trovare qualcuno Allora Qua c'è qualcuno Sicuro Ok Ti metti la culo Intanto Eh va bene Perché i fk Allora Mi voglio disperare Dove stai andando Tio E' il cieco Abbiamo il cieco Ma questo che Guarda Il cielo Guarda Le nuvole Ancora Non siamo San Cristoforo La San Lorenzo No Allora Se me l'hanno fregato E perché sono Pezzi di Pezzi di merda Ok Allora abbiamo Il cortello Dai Le postoline Di cacca Cazzo Però è impossibile Giocare certe partite Barigo Sto cazzo di coso Porca giuda Allora Vediamo se riusciamo A trovarne uno Oh Sì 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 Abbiamo i pugni Eccoli i pugni Sì Vinciamo questo gioco Delle armi Cazzo Sì Però ragazzi Veramente E' impossibile Giocare certe partite Non perché Mi secchi Giocare Ma perché Non c'è gusto Uccidere Gli FK Non c'è gusto Non c'è gusto Comunque Vinciamo questa partita Di RTC Ragazzi Come sempre Ottimo così ragazzi Come sempre Vi invito a lasciare un mi piace A condividere il video Trovate tutti i link Dei social In descrizione Restate attivi Sul canale Per altri video Di Call of Duty Sulla Road to Command Chiamato da noi Road to Cipolla Da vostri giudizio è tutto Bene ragazzi Grazie